A 15 giorni dall'attivazione del Covid Hospital agropolese tracciamo un bilancio di come sta procedendo il lavoro medico ed infermieristico nella struttura ospedaliera. Attivati nella giornata di oggi, giovedì 12 novembre, altri 20 posti letto di media bassa intensità. A parlare del lavoro svolto in questi giorni, ai nostri microfoni, è la dottoressa Rosa Lampasona, anestesista e rianimatore responsabile del reparto di terapia intensiva Area Covid. Come tutti già sanno abbiamo inaugurato il Covid Hospital di Agropoli il 27 ottobre, quindi sono già passati 15 giorni e il nostro lavoro è stato continuo e incessante. Con l'aiuto di tutti, non soltanto il mio, colleghi anestesisti che mi hanno supportato e team infermieristico, operatori sanitari e il reparto di malattie infettive che è stato aperto sotto la responsabilità del dottore Ielmi, abbiamo lavorato in questi giorni incessantemente perché abbiamo avuto tanti pazienti in ingresso. Abbiamo avuto anche pazienti che sono guariti, che sono andati via e sono tornati a casa e questo per noi è stato un traguardo importante, averli curati, assistiti in maniera giusta ed adeguata e farli tornare a casa per riabbracciare le loro famiglie. Come si sa le cose stanno comunque andando avanti, i pazienti Covid aumentano in tutto il mondo, anche da noi in regione Campania e quindi ci siamo attivati grazie a chi ci coordina, quindi il professore Polverino, il capodipartimento Fernando Chiumiento, il direttore sanitario Adriano Di Vita dell'ospedale Dea di Vallo della Lucania Agropoli che ha permesso l'apertura di questi 20 posti. Visto che abbiamo la possibilità di poterli aprire, la struttura l'abbiamo e quindi oggi si è deciso di aprire altri 20 posti di terapia malattie infettive a bassa e media intensità, di cui è sempre responsabile il dottore Ielmi. Io come anestesista reanimatrice sono responsabile dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva che al momento sono tutti occupati. Stiamo dando assistenza a tutta la regione Campania, in particolare anche al nostro territorio, come tutti già sanno abbiamo pazienti di agropoli ricoverati. Qui alcuni in attesa a Vallo che stanno assistendo e tra poco li accetteremo nel nostro nosocomio. Ci sono pazienti in terapia a media e bassa intensità e ci sono anche pazienti che sono un po' più gravi e quindi versano in una situazione diversa. Cerchiamo con tutti i presidi che abbiamo e quindi tutti i protocolli che stiamo già attuando dall'ingresso, cercando di far sì che più del numero possibile possa uscire in maniera come già è stato fatto e tornare a casa. Gli infermieri, ci stanno arrivando ulteriore numero di infermieri perché aumentano il numero dei posti di degenza e quindi si sta facendo anche questo lavoro di incrementare il personale infermeristico con l'ausiliariato associato. In questa fase dobbiamo ringraziare un po' tutti, non soltanto medici ma infermieri e ausiliariati, compresa la Croce Rossa che giornalmente ci dà un approvvigionamento continuo di tutto quello che serve. È un continuo lavoro, il lavoro non si ferma, è incessante, è continuo, non solo di assistenza ma anche di organizzazione. Però ringraziamo veramente tutti perché in questa fase, in questo momento ci sono di supporto tutti. Noi vi chiediamo solo di starci vicino, di aiutarci a collaborare, a far sì che possano fermarsi i casi. Parlo del nostro territorio, quindi vi continuo ancora a chiedere quello che potete fare voi, stare a casa e rispettare le misure di sicurezza che ben conoscete. Non vogliamo tornare sicuramente al lockdown totale e quindi questo vi chiedo solo la responsabilità che è di ognuno di noi. È l'unico modo per poterci aiutare da casa. Noi qui aiutiamo e assistiamo tutti quelli che arrivano. Però aiutateci a fermare perché i posti aumentano fino a quando è possibile aumentarli. A un certo punto non si potrà più farlo. Per cui noi vi chiediamo di fermare voi. Come? Rispettando le regole, poche e semplici regole.